Il piccolo che mancava al teatro ed è appunto il cosiddetto ridotto dei grandi teatri, qui a Catanzaro l'abbiamo chiamato il piccolo, come c'è il piccolo Milano con le dovute proporzioni ed è un luogo dove si possono fare iniziative di carattere culturale ma anche artistico, nel senso cioè può arrivare qui un pianista famoso, si può fare la serata per un libro come succede stasera con il mio, visto che ho la veste anche di sovrintendente del teatro, questa è la ragione per cui questo piccolo teatro, questa piccola bomboniera può diventare importante anche nella vita culturale della città. Il mio libro sono le piccole catastrofi quotidiane che ognuno di noi incrocia nella vita, piccole catastrofi che qualcuna può diventare grande catastrofe alla fine, mentre invece le grandi catastrofi non possono mai diventare piccole catastrofi, questo è come si dice il senso del libro. Sono le piccole disavventure amorose e nonno e di vita quotidiana che mi sono accadute anche a me, non solo a me ma anche intorno a me, nel lungo percorso della mia esistenza sin qui, visto che faccio 80 anni, che diciamo 80 anni, almeno su 80 anni dunque sono 64 anni di professione. Sì, lo aspettavamo da tempo, ogni teatro deve avere sicuramente una sala più piccola dove potersi esercitare, ma soprattutto una sala come questa che sarà di vita anche per far esercitare, per far, diciamo, metterle a disposizione delle nostre realtà catanzaresi, quindi l'aspettavamo da tempo, abbiamo ottenuto questo finanziamento della regione, abbiamo realizzato i lavori, non è stato facile perché nel frattempo, come tutti sanno, abbiamo tantissimi cantieri, però alla fine ci siamo riusciti e credo che oggi aprirlo alla città sia una cosa veramente importante.